Non solo l'elettrico anche l'idrogeno è una delle architravi della transizione energetica guardando ai titoli di questo settore cosa fare in borsa con Plug Power? Ce lo dice a House of Trading Enrico Lanati. Allora anche come seconda carta ho detto andiamo a fare un qualcosa di un po' diverso quindi cerchiamo di trovare un sottostante azionario che fosse un po' particolare, io diciamo non avevo creduto tanto nei rialzi dei titoli legati all'idrogeno in passato no perché c'erano stati delle diciamo dei rialzi veramente importanti poi abbiamo vissuto diciamo l'anno scorso dove proprio queste aziende sono state decisamente depresse in maniera molto forte e nelle ultime settimane sto vedendo invece che sta tornando un pochettino l'interesse però come abbiamo sempre detto secondo me un conto è andare a comprare un titolo quando è in pieno hype e diciamo tutti lo stanno comprando e ha dei prezzi che sono fuori da ogni diciamo buon senso in termini di valutazione un altro discorso è il titolo magari ha perso molto si può andare a valutare di prenderlo per il lungo termine quindi l'azienda che ho scelto oggi è Plug Power che diciamo è un'azienda leader in quello che è la produzione diciamo di energia meglio ci piace se supera i 18 e 15 dollari ad azione si apre davvero ampie possibilità di recupero tu dove vai in acquisto Enrico? Sì beh io cerco sempre quando do questo tipo di strategia cerco di essere il più vicino possibile ai prezzi che batte il mercato quindi andiamo a vedere quelli che sono quindi come detto una carta verde andiamo a vedere quelli che sono i livelli operativi io ho individuato come area di ingresso 16,90€ lo stop loss scusate 16,90€ stop loss 14,90€ target price 19,95€ quindi sostanzialmente questa è un po' la strategia uno stop abbastanza stretto sappiamo che questo è un titolo decisamente volatile ma potrebbe salire secondo me in maniera interessante coloro dovesse tornare interesse sul tema dell'idrogeno sappiamo quanto l'energia in questo momento sia al centro della tensione ti è piaciuta questa strategia bene iscriviti al canale BMP Paribas attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading